440 euro tutti per voi se aprite un conto buddy bank, più info avanti nel video. Questo zaino mi ha accompagnato tra Thailandia, Singapore, Istanbul, Islanda, California, Hawaii. Pensate che ha addirittura incontrato Tim Cook. Sono letteralmente anni che cerco di mettere a punto il setup perfetto. Quindi mettetevi comodi, lasciate un bel mi piace al video e noi iniziamo con... Peak Design, questo è il modello da 45 litri. Ora vi spiego i suoi segreti. Copertura antistrappo, antigraffio, antisporco, quasi completamente impermeabile, ma non vi preoccupate, c'è un segreto anche per questo. E partiamo dalle superfici esterne. Innanzitutto ho aggiunto dei piccoli dettagli arancioni che vedete qui per esempio sulle cerniere, perché ci sono sì tantissime cerniere, quindi avevo bisogno di accedere a quella principale individuandola tra mille. Maniglia laterale per sollevarlo, maniglia posteriore per alzarlo anche da dietro. E una vera figata è che abbiamo queste due piccole ali che permettono di far rientrare gli spallacci rimanendo chiusi magneticamente per renderlo molto compatto quando lo infiliamo per esempio sulle cappelliere, per evitare che vengono strappate magari le cinghie. Micro taschina laterale che permette in teoria di tenere i documenti. Io in realtà tengo all'interno ovviamente un airtag, ma vedrete che ce ne sono veramente tanti sparsi all'interno di questo setup. Connettore da spallaccio sempre di Peak Design, installato direttamente sulla sinistra. Di questa cosa me ne sono reso conto in Thailandia quando giravo con la mia bellissima Leica QP semplicemente arrotolata e incastrata nello zaino. Come vedete abbiamo il connettore posizionato nella parte inferiore della macchina, ovviamente si può attaccare a qualsiasi macchina, e poi con un semplicissimo gesto possiamo innestarla in modo saldo all'interno dello spallaccio. Come vedete lei non si muove da nessuna parte, per sbloccarla c'è un semplice tasto che ci permette di rimuoverla e renderla super operativa e veloce da utilizzare. Leica QP che sapete essere, oltre una macchina strepitosa, anche la mia scelta per quanto riguarda appunto il comparto fotografico della mia dotazione. Se ancora non lo fate, seguitemi su Instagram, li metto tutti i miei scatti. Nella parte esterna questo zaino è equipaggiato con queste piccole asole che servono ad agganciare materiale supplementare che attacchiamo esternamente allo zaino. Per aiutarmi io qui ho installato un piccolo moschettone in titanio, veramente strepitoso, che serve ad agganciare le cose in maniera più facile e veloce, che fa anche da apri bottiglie, che può essere sempre comunque utile. Situazione in cui è diventato fondamentale averlo, bottiglia di acqua gasata, qui in aeroporto a Malaga, e altrimenti non si può combatterla. In questa tasca magnetica inferiore ci sono nascoste due piccole chicche però. Questo che è un sacchettino che va a contenere una mantella antipioggia, assolutamente fondamentale con un deploy rapido per andarlo a proteggere ulteriormente, sempre marcata Peak Design, ovviamente è progettata per questo specifico zaino. In Islanda mi sarebbe stata veramente utile, visto che ci ha piovuto veramente addosso per tutto il tempo, anche se devo dirvi che anche senza di lei è piuttosto resistente. Se dovete andare in climi particolari vi direi di gestirvi anche con una di queste. Dopodiché, sempre nella parte inferiore, ci sono nascoste queste due cinghie, che servono per essere agganciate in questi appositi supporti, in questi appositi anelli, proprio per andare a bloccare il materiale. Tasca laterale che va a contenere uno strepitoso cavalletto, in questo caso realizzato in alluminio, sempre la Peak Design, super compatto, veramente pazzesco, ve lo faccio vedere. Innanzitutto, confezione strepitosa dal punto di vista del design, ma poi compattezza assoluta del dispositivo. Guardate che estetica, guardate che spettacolo di oggetto. Estremamente compatto quando viene riposto, in realtà è addirittura a quattro step, quindi possiamo veramente allungarlo a nostro piacimento. Giusto per farvi capire, guardate il dettaglio di questa manettina, che serve a regolare ovviamente l'alzata qui della testa fluida, che può ritornare in sede per evitare di occupare troppo spazio laterale. Testa che può alzarsi con colonna basculante, addirittura abbiamo la possibilità, una volta sbloccata, di muoverla e orientarlo come meglio crediamo, addirittura di metterlo a 90 gradi, per esempio per fare delle inquadrature appunto verticali. Sistema di sgancio rapido uguale a quello che utilizzo appunto anche sullo spallaccio dello zaino, quello che vedete installato appunto sotto anche la mia Leica. Figata assoluta il fatto che addirittura contenuto all'interno del tubo verticale abbiamo un piccolo supporto per smartphone, questo qua ci permette di connettere il nostro telefono senza doverci portare dietro dei supporti aggiuntivi, veramente una figata. Questo invece è il gancio che serve per utilizzare per esempio un controbilanciamento quando lo si usa per fare per esempio dei timelapse, ci attacchiamo lo zaino sotto e rimane fermo in sede. Peak Design addirittura ha pensato a noi e ha messo uno spazio per contenere un piccolo multitool fondamentale per regolare tutte le parti di questo cavalletto, così non dobbiamo ricordarcelo. Ulteriore tasca laterale che contiene una borraccia, in questo caso è semplicemente strepitosa perché ricorda tutta la scelta cromatica che ho fatto per questo setup, quindi nero, arancione e grigio chiaro, lo vedete anche sul bellissimo cinturino di questa Apple Watch Ultra. In questo caso è firmata Polestar, me l'hanno regalata durante l'ultimo tour a Marbella, fatto direttamente con Polestar. È fatta di materiali 100% riciclati, una vera figata, e avere una bottiglia sempre dietro con l'acqua è fondamentale. Questo zaino permette certo di accedere lateralmente aprendo le apposite patelle, ma io comincio dalla tasca frontale. Qui dentro abbiamo innanzitutto il mio portatelefono preferito. Nello specifico abbiamo di nuovo un prodotto di Peak Design unito ad un prodotto di Insta360, anzi di PGI Tech per Insta360. Quali sono le sue peculiarità? Ragazzi, questa roba mi ha veramente cambiato la vita. In questo caso utilizzo il mio iPhone 14 Pro Max con una cover sempre di Peak Design, perfetta quando la si porta in giro, super resistente, con questa bellissima texture, ma soprattutto con un sistema MagSafe misto a un sistema di aggancio proprio brevettato da Peak Design, mi permette di fare questo, di avere un supporto per il mio telefono, che utilizzo per quasi la totalità delle mie riprese quando sono in giro, assolutamente super versatile e super solido. Questo qui ha un invito magnetico che quindi ci permette di allinearlo velocemente, ma poi è un innesto meccanico vero e proprio che appunto permette di non farlo scappare via. Questa è una vera e propria figata. Dopodiché abbiamo la possibilità di allungarlo, ovviamente di utilizzarlo come un vero e proprio selfie stick, cosa che per me in realtà, come potete immaginare, è molto utile. Abbiamo la possibilità di utilizzare la parte di treppiede per poter fare le inquadrature in cui ovviamente lui sta fermo da qualche parte, oltre a poter utilizzare questo sistema di aggancio anche con una miriade di altri accessori fatti proprio da Peak Design. Se dovesse per qualche ragione invece piacervi questo strepitoso wallpaper, beh, lo trovate nel pacchetto dedicato alle foto fatte in Islanda su Otagono.shop. Dateci un occhio, c'è roba veramente bella. Unico elemento, diciamo fuori profilo dal punto di vista estetico, che troviamo all'interno di questo zaino, visto che è completamente realizzato in pelle, è il mio porta passaporto di Berroy. Però sinceramente ragazzi, così capiente, così comodo, non l'ho ancora trovato da nessuna parte. All'interno abbiamo ancora la salviettina, diciamo, sanificante qua di United, dall'ultimo viaggio alla Hawaii, allo stesso modo dei dollari, vabbè, qui ci metto di solito i contanti della valuta del paese in cui vado, ma soprattutto passaporto, Airtag per il tracciamento, kermatura RFID, così evitiamo spiacevoli situazioni di clonazione, microtool togli-sim incastrato qui dietro, perfetto quando viaggiamo, e poi una piccola pennina eccezionale per compilare i moduli, come mi è successo proprio durante l'ingresso alla Hawaii. Priority Pass per accedere a tutte le lounge, e ultimo, ma non certo per importanza, la mia carta di debito BuddyBank. Fidatissimo compagno, ormai da tanti anni, e soprattutto in questo periodo c'è una succulenta promo per voi. Infatti, se apri un conto corrente BuddyBank utilizzando il codice 840 entro il 15 gennaio, e fai una transazione di almeno 5 euro con la carta di debito BuddyBank, tranquilli, potete comodamente utilizzare anche Apple Pay, puoi ricevere 40 euro bonus sul conto, da spendere come volete. Potrai poi invitare i tuoi amici direttamente in BuddyBank, condividendo il tuo codice e ottenere fino a 400 euro. Per condizioni e limiti di partecipazione trovate ogni informazione dal link qui sotto in descrizione. Noi intanto continuiamo con lo zaino. Ah, nella taschina frontale tengo anche delle FP2, non si sa mai, in aereo, e una bellissima penna di lami. Questa qua è una stilografica arancione, sempre a tema col setup. Ah, e qui medicinali di varia natura, non si sa mai. Schienale rinforzato e apriamo questa meravigliosa scatola dei desideri. Assolutamente, parola chiave, modularità. Ogni cosa deve avere una sua scatola, una sua borsa, un suo contenitore, che serve ovviamente a spezzare tutto il carico quando si è in dogana, quando ci si sta muovendo per esempio per i controlli e qualcuno vuole vedere una singola cosa, ma più in generale se vogliamo togliere alcune parti dello zaino quando siamo in viaggio, lasciarle in hotel e continuare con il resto. Vi direi che mettiamo tutto sul tavolo e analizziamo una cosa per volta. Nella tasca imbottita invece chiaramente trovo a posto il mio fantastico MacBook Pro da 13 pollici. Compatto ma super potente, lo amo veramente tantissimo. Borsa da campo, tech bag, beauty bag, super batteria, ventosa da macchina, cuffie, drone e vestiti. Partiamo alla grande con la tech bag. Anche qui, come vedete, l'ho segnalata con questo bellissimo nastro arancione, ve lo linko qui sotto in descrizione. È veramente comodo per renderla distinguibile da tutto il resto della dotazione, questa è quella che più facilmente mi serve con frequenza. Anche lei, stessi identici materiali, sempre realizzata da Peak Design, come vedete è fantastica, c'ha un sacco di manigliette che servono a trascinarla fuori dallo zaino da qualsiasi posizione, ma nello specifico abbiamo anche alcune altre chicche. Innanzitutto, quando si apre, lei diventa una specie di ventaglio, che io amo veramente alla follia per quanto riguarda il modo in cui si accede al contenuto quando si è in giro. All'interno poi troviamo una quantità spropositata di roba. Mettiamo l'apposita base da taglio per dare un pochino di ordine. Primo step, un charger strepitoso realizzato direttamente da Belkin. Anche qui ho cercato a lungo per trovare quello più efficiente, quello con il design migliore, quello certificato per funzionare con tutti i miei prodotti Apple. Nello specifico, doppia uscita USB di tipo C, una da 20 Watt per il telefono e una da 45 Watt al massimo per caricare il mio computer. Il MacBook può caricare anche fino a 60 Watt, ma vi assicuro è più che sufficiente anche per via del fatto che ha una batteria mostruosa quel MacBook. Dual charger, ovviamente pensato per poter portare in giro sia l'Apple Watch che il mio iPhone in ricarica quando sono appoggiati sul comodino, lo adoro veramente, non ho ancora trovato un sostituto di pari qualità e bellezza. Doppio cavo Lightning USB-C, un bellissimo cavo USB-C giallo, super facilmente riconoscibile. Lo preferirei arancione? Beh, sicuramente sì, ma non l'ho ancora trovato che permette di avere questa velocità di trasferimento. Quindi con questo posso sia caricarci il MacBook, sia tutti gli altri prodotti che ho, sia ovviamente, connettermi ad alta velocità a questo strepitoso SSD super smart realizzato proprio da Dock Case. Oltre ad essere molto appagante dal punto di vista estetico, è solamente un case. All'interno ci potete mettere qualsiasi SSD compriate su Amazon, diciamo da interni, quello che si mette dentro i computer di solito, dove sta la chicca che spendete meno sulle unità di memoria, ma soprattutto ha una tecnologia che permette di mettere in sicurezza il vostro SSD nel caso venga staccato rapidamente dal vostro MacBook senza disattivarlo. Come sapete gli SSD hanno il problema di poter corrompere i settori di memoria se viene staccato brutalmente dalla porta USB-C. Lui si occupa, grazie a un condensatore contenuto all'interno, di avere quei 5-10 secondi a seconda del modello di carica che permettono di smontarlo in sicurezza. Veramente una figata. Poi c'è anche un piccolo display frontale che vi dà una serie di informazioni come la temperatura, quanto è stato utilizzato l'SSD, eccetera, eccetera. Doppio contenuto MagSafe. Questo è un altro strepitoso gadget di Peak Design, magnetico MagSafe, che si innesta anche grazie alla presenza di questa cover con magnete maggiorato, ma soprattutto, come vedete, è un piccolo treppiede portatile ed è una cosa veramente pazzesca. Quando siete in giro, avere un supporto che vi permette non solo di fruire i vari contenuti multimediali, per esempio quando siete in aereo, lo mettete in orizzontale e avete qualcosa che ve lo tiene in mano, ma soprattutto, insomma, può aiutarvi anche a fare delle riprese statiche quando non volete girare col cavalletto, perché lui si ripone e lo mettete semplicemente nella parte posteriore appunto attaccato grazie al magnete. Poi Peak Design pensa sempre a quella cosina in più che vi rende pazzesco il dispositivo, infatti vedete qui c'è una piccola chiavetta incastrata di regolazione che serve a modificare la frizione che fa la sfera e le singole gambe per avere una cosa un po' più rigida oppure un pochino più morbida. Oltre al fatto che torna utile anche come piccolo stick per fare le riprese. E poi, piccola batteria di emergenza, una cosa da mettersi in tasca quando non si vuole partire con un ulteriore zaino e possiamo attaccare appunto qui dietro il power bank di Apple. Ulteriore cavo USB di tipo C, questo qui Thunderbolt 3, ve lo linko qui sotto in descrizione perché è di altissima qualità. Genialata assoluta, questi due piccoli adattatori di USB-A a USB-C perfetti per essere utilizzati con i miei cavi Lightning, fondamentali per tutte quelle situazioni medievali. Sempre per quanto riguarda l'aereo, giro sempre con questo fantastico Airfly direttamente realizzato da Tual South. È un piccolo gadget Bluetooth che serve per essere attaccato all'interno dell'infotainment degli aerei e poter utilizzare insomma tutto il sistema di infotainment con i vari film contenuti all'interno con le mie cuffie Bluetooth perché altrimenti utilizzare quelle degli aerei è veramente atroce. Carica batterie multiple di DJI della mia action cam che poi vi mostro, veramente strepitoso anche come estetica. Eliche di ricambio del drone che non si sa mai. Ultima ma non per importanza, una piccola torcia utile per andare a cercare le cose quando è buio. Effettivamente questa è piccola ma potentissima, fantastica. Taschina laterale che nasconde un piccolo segreto. Una meravigliosa fettuccia uguale a quella che avete già visto nella parte frontale del mio zaino che ha un utilizzo veramente geniale. Grazie a questo sistema modulare che vi ho spiegato prima, quindi queste piccole asole che sono posizionate su ciascuna delle borsette ma anche dei vari prodotti realizzati da Peak Design, come per esempio anche la borsa da campo, potete trasformare ciascuna di queste borsette in una tracolla da portare in giro separatamente dallo zaino, fondamentale per dividere ulteriormente il carico. Ed eccoci qua, meglio di uno zaino? Beh, più comodo. È una cosa che ti metti semplicemente in spalla e hai tutto quello che ti serve. Proseguiamo con quella che è la Field Pouch, sempre di Peak Design. Modulare, molto bella, sempre con lo stesso identico materiale. All'interno ha una serie di tool che mi servono fondamentalmente per fare le riprese e i video che vi porto qui sul canale. Nello specifico abbiamo questi che sono gli strepitosi microfoni DJI. Ve ne ho già parlato in un video, non credo serva dilungarsi più di troppo, ma sono strepitosi sia come qualità che come design. In un attimo si connettono al nostro iPhone oppure al nostro qualsiasi telefono Android. Microfoni con la clip magnetica, insomma, grande qualità ma soprattutto versatilità. DJI Action 3. Questa qui è la Action Cam di DJI. Come avrete capito sono veramente un fanboy per quanto riguarda qualità e design di DJI. Fa delle robe pazzesche. In questo caso ho scelto l'Action 3 perché ne abbiamo sia lo schermo nella parte posteriore che in quello frontale, fondamentale per fare le inquadrature, ma soprattutto un sistema di aggancio veramente pazzesco e magnetico con tutti i suoi accessori. Questa roba cambia la vita nella velocità operativa. In questo caso poi è montata su una bellissima ventosa realizzata sempre da PGI Tech, la stessa del cavallettino che vi ho mostrato prima. Super super versatile per quanto riguarda i posizionamenti e soprattutto è incredibile il livello di adesività di questa ventosa. Ottima, quando siete in macchina dovete fare delle riprese. Sempre qui all'interno poi abbiamo un gadget che sto utilizzando parecchio, soprattutto nell'ultimo periodo, che è questo strepitoso stabilizzatore sempre di DJI che si accende da solo tra l'altro quando lo inseriamo, quando lo apriamo. Ve lo faccio vedere con l'altro mio telefono che utilizzo di solito per queste cose. In meno di un secondo lui si attacca e va automaticamente a bilanciarsi. A quel punto siamo pronti ad avere una stabilizzazione praticamente da gimbal, a tutti gli effetti lo è, e potete fare delle riprese super cinematografiche. Alcune di questi shot li avete visti o sul mio Instagram oppure nel video che ho fatto per Polestar. Quanto è comoda sta roba che si accende e si spegne così, pazzesco. Ultimo, ma non per importanza, qui dentro c'è anche un multitool proprio di Peak Design perfetto per togliere le sue slitte rapide, ma anche per bloccare e sbloccare le sue viti delle action cam. Per quanto riguarda il powerbank, la mia scelta va direttamente su questa unità di Omnicharge. Grandissimo design, grandissima qualità, grandissima capienza, siamo quasi a 20.000 mAh. Di più non serve, di meno non vi basta, ve lo assicuro con tutta sta roba quando siete in giro non potete fare altrimenti. Qual è il suo punto di forza? Doppia USB di tipo A, ma soprattutto USB-C da questa parte e da questo lato una presa full size. Questo significa che potete caricare qualsiasi cosa a 220 volt. Abbiamo appena scoperto una cosa interessante, stiamo aspettando che apra il ristorante. Abbiamo appena recuperato i pezzi di A380 che avrete sicuramente visto in un altro video. Yaki deve pubblicare il suo prezioso video, che è quello sull'Africa, l'ultimo. Abbiamo in teoria scoperto? Praticamente solo attaccato al power bank, volendo accenderlo subito, in emergenza, non si accende il MacBook. Perché gli ciuccia 60 watt. Con l'alimentatore ciuccia 100 watt e quindi si accende subito. Esatto, perché come vedete abbiamo attaccato l'alimentatore sulla batteria. E come vedi sta ciucciando 94 watt. Caspita. Per quanto riguarda le cuffie Bluetooth, la mia scelta non è sulle iPods Max, che amo alla follia. Perché, lo sapete, qui in studio uso praticamente solo quelle. Ma mi serve qualcosa di pieghevole e soprattutto super resistente, come le Bose QuietComfort 45. Fantastico prodotto che potete utilizzare per 20 ore di seguito. Ragazzi, 26 ore per arrivare dall'Italia e le Hawaii. È stato un viaggio della speranza, ma grazie a loro è stato un pochino più leggero. Questo ha tutti gli effetti, invece, è sempre di Peak Design, ma è il mio beauty case. È fantastico perché ha la stessa configurazione che avete visto anche nella tech pouch, però appunto è dedicato soltanto alla parte bagno. Di bello ha questo materiale impermeabile, un gancio posizionato nella parte posteriore che serve ad appenderlo. All'interno il necessario, ossia piccolo pettine pieghevole, assolutamente fondamentale per i miei capelli. Rasoio di brown, anche questo perfetto se si sta via più di una settimana perché altrimenti la barba esplode. Taglia unghie direttamente fatto da Victorinox. Questo qua è veramente un oggetto pazzesco, completamente in metallo, che si gira e che passa tutti i controlli. Fantastico per sistemarsi in ogni situazione. Mascherina, senza di questa non riesco a dormire. Tappi per le orecchie in silicone. Ragazzi, questi sono i migliori che si trovano sulla rete, ve lo giuro. Si adattano a qualsiasi orecchie e soprattutto sono lavabili e fantastici. Super consigliati, non costano poco, ma non trovate niente di meglio. Taschine laterali fondamentali per profumo, deodorante e campione del mio shampoo preferito. La vera figata di questa borsa è che ha due porta spazzolini impermeabili e lavabili, tenuti bloccati da un magnete. Come vedete, questa è la tasca centrale che è tra l'altro rivoltabile e lavabile. Abbiamo un'altra identica anche nella parte esterna. E poi la mia scelta di spazzolino. Bello, nero, svizzero e soprattutto curaprox. La mia scelta per quanto riguarda il drone. Passo ovviamente di nuovo da DJI. Questo qui è un bellissimo case che ho comprato per poterlo veramente trasportare in giro. All'interno ovviamente abbiamo sia il radiocomando completo, full size, quello con lo schermo inferiore, che è fondamentale. Vi lascio qualche clip realizzata recentemente grazie a lui. Il mio piccolino, questo meraviglioso strafanto che serve ovviamente a creare un punto di vista interessante quando si è in giro. E poi una serie di filtri ND fondamentali per le riprese e questi me li ha prestati Ale. Grazie mille Ale. Ultimo, ma non certo per importanza, questa che è sempre di Peak Design, ragazzi, perdonatemi, ma fanno delle robe veramente pazzesche come qualità, ed è il porta vestiti. Come funziona? Abbiamo queste due piccole asole che possono essere tirate per un'apertura rapida e vi faccio vedere la mia dotazione che può essere sufficiente per un intero mese di viaggio. E vi spiego come funziona. Primo lemma, ovviamente, una camicia bianca. Poi ovviamente, visto che viene infilata dentro uno zaino, sarà stropicciata. Ma tutti gli hotel hanno sempre e comunque un farro da stiro e un asse da stiro. Quindi, appena arrivate, la sistemate e la utilizzate per eventualmente una serie importante. Per tutto il resto, soprattutto se siete come me, mono outfit, avete la possibilità di scegliere una maglietta bianca per ciascuna occasione. Quindi una maglietta bianca per giorno della settimana, più quella che state indossando. Ovviamente, arrivati a metà settimana, potete cominciare a mandare a lavare direttamente nella reception dell'hotel, oppure in una qualsiasi lavanderia a gettoni, quello che avete sporcato. Poi, naturalmente, avete la possibilità di portarvi via un'altra di queste sacche con dentro tutta la parte di intimo e di calzini. Anche qui la scelta è semplicissima, uno per ogni giorno della settimana. Se rinunciate ad essere vestiti sempre diversi, così potete ottimizzare al massimo il bagaglio e occupare meno spazio possibile. Per me, che faccio video, è fondamentale così, essendo vestito sempre uguale, posso fare clip diversi in giorni diversi e posso unire tutto all'interno di un video, voi non capite che in realtà è girato in momenti differenti. Queste sacche sono una figata perché hanno non solo quell'apertura facilitata e un materiale veramente di qualità, ma anche la possibilità di usare queste piccole cerniere laterali per andare ulteriormente ad espandere lo spazio a disposizione, come vedete. Quindi possono essere compattate oppure espanse a seconda della necessità. Stessa identica cosa vale anche per lo zaino. Abbiamo queste due cerniere laterali che permettono di stringere il volume complessivo dello zaino e addirittura una coppia di bottoni posizionati qua in alto che permettono di contrarre ulteriormente il tutto quando si va in giro. Eccolo qua, signori. Questo era a tutti gli effetti il mio super zaino tech. Spero che tutto questo impegno che ci ho messo nel creare lo zaino assolutamente perfetto per quanto mi riguarda vi sia piaciuto, quindi in questo caso lasciate un bel mi piace al video, fatemi sapere che cosa ne pensate con un bel commentino e noi ci vediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.